Allora, si può partire per i terrami? Ci siamo tutti? Siamo caldi? E quando infine splutta l'alba, c'è solo un moto intorno a me. La notte mi fa impazzire, ma ti diverti a tormentarmi, la notte tu mi fai impazzire. La notte mi fa impazzire. In questo caso è arrivato il numero vincente. Il numero 7, una bottiglia di vino della casa. Grazie per la partecipazione, andiamo avanti con il gioco, grazie. No, dietro, 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 verso sinistra, no, dietro, ferma, ferma lì, ferma. Ora, 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 ora. Ok, è arrivato il premio. È bella, è bella. A numero 8 corrisponde una scatola di cioccolatini. E poi, come è la strada, guarda. Non si sa mai capisciazione. Chissà dov'era casa mia E quel bambino che giocava in un cortile io E io Pagamondo che sono io Pagamondo che non sono altro Sono d'intasca, non credo La nascita è rimasto mio Non è rile, non credo Non è rileva Perfetto, non credo D'asta a sinistra Una, quando hai Mani in alto, più alto che potete Dall'alto e bando Doppia Uno Ah, ad un luogo È arrivato Bo La bottiglia di spumante Come si chiama la dottoressa? Graziella Graziella, complimenti Terzo tiro Comunque facciamogli fare il terzo giro Perché però è... 3, ascolta Io sarei valido perché Premio numero 4 Dottoressa come si chiama? Patrizia Patrizia, complimenti a Patrizia Numero 4 c'è il culatello Dopo facciamo merenda tutti insieme Bravo Secondo tiro Via, 2, ferma Eccola arrivato, ok Applausi a Raffaella, guardiamo che cosa Che è? Regame numero 2 Regale ve lo dico Ma scusa, a questo punto è meglio nulla 2, c'è la bottiglia di grappa La bottiglia di grappa, lo sapevo Di grappa a Nortica Auguri, auguri Grazie Il biglietto deve cascar giù Il biglietto deve cascar giù 3, è arrivato Eccolo qua Numero 6 La forma di formaggio Grazie Secondo tiro Più alto 2 Eccolo regalo Ok Un applauso Eccolo regalo Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo Avemo su sbapa, regame, tizio sbame e se la ceppia Facciamone l'applauso Lui addirittura del salame, non mi importa E' un'onore avere la coppia dei Mr. Tekame, 9-10-18 Anch'io Mr. Tekame, eh Ora però si è nel bello, perché voi avete visto Un applauso a Mr. Tekame, 9-10-18 Un attimo, un attimo Ci devi girare tutto il giorno domani Un applauso a Mr. Tekame Eba, è lo secco, eh 3 Corrisponde al numero 5 che c'è la bottiglia dei niente I premi assegnati sono stati consegnati tutti La direzione vi ringrazia Tutti Tekame Grazie a te Marco Al prossimo anno Ma prima del prossimo anno ci sono tutte queste altre iniziative, eh Grazie a te Marco Grazie a te Marco